Trieste Espresso 2018, ci troviamo allo stand della Star Italy, proprietaria del marchio Cisa Paper e siamo in compagnia del dottor Salvio Merolla, il responsabile commerciale dell'azienda che intanto invitiamo a salutare. Ciao a tutti, ciao Fabio, grazie mille. Salvio, voi siete qui come un appuntamento fisso, ogni biennio siete a Trieste Espresso perché evidentemente porta dei risultati. Certo, Trieste Espresso è una fiera molto importante per noi perché abbiamo l'opportunità di conoscere aziende del nord, visto che noi siamo situati a Napoli, abbiamo l'opportunità di incontrare anche dei nostri clienti e per lo più c'è l'opportunità di poter avere a che fare con aziende dell'est Europa che sono alla ricerca di prodotti come i prodotti che presentiamo noi. Che cosa presentate con esattezza qui a Trieste Espresso? Allora, qui a Trieste Espresso presentiamo quest'anno l'Eco Kit che è un prodotto in alternativa al kit che viene utilizzato attualmente all'interno degli accessori per le torrefazioni, per le cialde, per le capsule. Quindi per il comparto OCS? Sì, per il comparto OCS. Eco Kit è un prodotto con il quale possiamo andare a sostituire il kit che oggi viene utilizzato da tutte le aziende in quanto è più ecologico rispetto al kit tradizionale, poiché contiene bicchieri di carta, palette di legno e uno zucchero italiano al 100%. Quali sono le caratteristiche di questo kit che di fatto è piccolissimo nel formato, è confezionato a 50, 100, 150? Questo kit viene confezionato in base alla necessità dei clienti naturalmente e lo confezioniamo diciamo di default a 50, 100, 150 quindi moltipli da 50. Salve, voi siete particolarmente famosi anche per altra iniziativa. Voi realizzate dei bicchieri, bicchierini in carta personalizzandoli, in che modo? Allora, noi abbiamo iniziato questa attività diversi anni fa presentando il bicchiere di carta per il caffè espresso che è comunque un prodotto molto ecologico. Diamo l'opportunità ai nostri clienti di effettuare delle personalizzazioni di tirature accettabili, con un prezzo diciamo molto vantaggioso, dove il cliente può proporre il proprio marchio su un prodotto come veicolo di pubblicità. Quindi il bicchiere di carta non inteso solamente come accessorio ecologico ma anche come mezzo di marketing. E allora, per chiunque si trovi all'altra parte e desideri avere maggiori informazioni sui prodotti da personalizzare, ho questo eco kit che è bello da vedere, sostenibilissimo per l'ecologia, per l'ambiente e così via. Qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere senza alcun impegno? Allora, potete scrivere a infochiocciolacisapaper.com E da lì poi qualcuno? Poi da lì qualcuno vi risponde e insomma vi verranno fatte alcune domande per farvi un preventivo ad hoc e per venire incontro alle vostre esigenze. Bene, Salvio, grazie intanto, saluta a tutti loro, noi avremo modo di vederci prossimamente in altra fiera. Fabio, grazie a te soprattutto e grazie a tutti voi per averci seguito e vi aspettiamo in tanti, grazie, grazie. Non andate via perché ora lascio lui, passo in un altro stand per documentare altre novità presentate qui a Trieste Espresso 2018. Ciao Salvio. Ciao Fabio, ciao.